Gentili telespettatori, buona giornata. Pubblica amministrazione, PA. Vincono il concorso e rinunciano perché il posto non è al sud. Una fetta consistente dei 320 funzionari di amministrazione della motorizzazione civile che avevano vinto il recente concorso hanno rinunciato evitando di prendere servizio a meno che non gli fosse stata indicata una sede al sud. A rivelarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, in un'audizione alla Commissione Trasporti e alla Camera. Il ministro ha detto chiaramente che le assunzioni recenti sono andate in parte deserte, soprattutto al nord. Questo perché i funzionari provenienti dalle regioni meridionali sono rifiutati di trasferirsi lontano da casa. Lo Stato avrà difficoltà a trovare nuovi dipendenti per le motorizzazioni. Temiamo che la stessa cosa accada per il primo concorso per ingegneri. Ebbè, attenzione, al nord trovare una casa in affitto va via tutto lo stipendio. Se sei vicino casa, se hai la casa di proprietà, immaginatevi una famiglia che vive al sud, il marito o la moglie va a lavorare al nord e lì è lontano dalla famiglia, in più là spende tutto lo stipendio per l'affitto. Allora che serve? Immaginatevi una famiglia, marito, moglie, due figli. Ah, ho trovato lavoro, è al nord, a Milano. Lì neanche pago l'affitto, non mi rimangono i soldi neanche da permangiare, con quello che costa l'affitto. Non riesco neanche a tornare a casa una volta ogni dieci giorni, quindici, perché i costi sono troppo alti. Che faccio? Vado là a lavorare solo per pagare l'affitto, tanto vale che sto qua a casa e mi cerco un lavoro qua, quello che trovo. E il mercato del lavoro è cambiato, ragazzi. Trasferirsi al nord tutta la famiglia, con uno stipendio statale, ci vivi una famiglia, ci paghi anche l'affitto, che solo la bolletta della luce ti costa 500 euro tenendo spente le luci. Non si può fare. Devi rimanere vicino alla famiglia, i parenti, i genitori, i nonni, perché questi sono quelli che ti danno una mano. Se tu vai al nord, chi ti dà una mano? Il metano non ti dà una mano. Arrivederci a tutti e grazie.